I gavoranesi devono prendere coscienza di quello che è il loro futuro. I gavoranesi si trovano per la terza volta in cinque anni a votare per le amministrative, per il loro sindaco. Questo significa che questo tipo di politica ormai è una politica vecchia e è una politica che deve assolutamente essere modificata. Noi rappresentiamo la vera novità, l'alternativa. Siamo convinti che l'alternanza sia anche sintomo di democrazia e di libertà. I gavoranesi devono scegliere per il loro futuro. Il nostro programma è un programma concreto, con risposte concrete ai loro problemi, alle loro esigenze. È un programma che punta totalmente su punti fondamentali come lavoro, come turismo, come sociale. Queste sono le voci della novità. Quindi il 26 e il 27 maggio votate per il rinnovamento. Scegliete centrodestra Gavorrano per Muriel Berretti sindaco.